Parte il piano di evacuazione a Lampedusa. Una delle priorità a cui il prefetto Valenti ha lavorato in queste prime settimane da commissario è stato proprio quello di mettere a punto un dispositivo che consenta di suotare l'hotspot dell'isola nei momenti di picco degli sbarchi che coincidono frequentemente con il weekend. Il trasferimento dei migranti avverrà tenuto conto dei tempi necessari per lo svolgimento delle procedure di identificazione e di prima assistenza sanitaria e sarà coordinato dal commissario per l'emergenza e migrazione Valerio Valenti e il prefetto di Agrigento Maria Rita Cocciufa con il supporto della difesa, della guardia di finanza e della capitaneria di porto. Si punta ad una soluzione strutturale per Lampedusa con l'attivazione di quasi mille nuovi posti di primissima accoglienza per ridurre la pressione migratoria sull'isola che si prepara alla stagione turistica estiva. L'obiettivo è quello di evitare il sovraffollamento della struttura che in passato è arrivata a contenere sino a 2300 migranti. Sono così 300 i migranti che sono stati imbarcati sul traghetto di linea che in serata giungerà a porto Empedocle lasciandosi l'hotspot di Lampedusa dove all'alba c'erano 1605 persone alle spalle. 30 andranno in Campania, 40 in Emilia, 80 nel Lazio, 79 in Lombardia, 50 in Veneto, 10 a Villa Sicania, Siculiana e 11 minori non accompagnati over 14 andranno ad Agrigento. Sempre oggi previsti dalla prefettura di Agrigento anche tre voli militari diretti con 90 migranti ciascuno a bordo a Crotone, Sigonella e Pisa. Per domani mattina è invece previsto l'arrivo a Lampedusa della nave Dattilo che imbarcherà circa 600 persone e farà rotta verso Pozzallo. La prefettura di Agrigento sta approfittando della parentesi di maltempo e mare mosso per svuotare l'hotspot di Contrada in Briacola e cercare di rendere la struttura più vivibile possibile.